Benvenuti nel mondo degli orologi Ralph Tech. Ralph Tech è un marchio di orologi di lusso francese che produce orologi di alta qualità progettati per le attività subacquee e per gli appassionati di sport estremi. Il marchio è stato fondato nel 1996 da Frank Wiege, che ha voluto creare orologi funzionali e resistenti in grado di soddisfare le esigenze degli sportivi più esigenti. La filosofia del marchio è racchiusa nell'acronimo Ralph, che sta per Real Adventure Luxury Functional Technology. Questo significa che gli orologi Ralph Tech sono realizzati con una particolare attenzione alla funzionalità, alla tecnologia all'avanguardia e alla resistenza, senza trascurare l'estetica e il lusso che caratterizzano i prodotti di alta gamma. La collezione di orologi Ralph Tech comprende una vasta gamma di modelli, ognuno caratterizzato da un design unico e distintivo. Se sei alla ricerca di un orologio di lusso funzionale, resistente e dal design unico, Ralph Tech potrebbe essere la scelta giusta per te. Grazie alla vasta gamma di modelli disponibili, troverai sicuramente l'orologio ideale per le tue attività sportive ed estreme, senza rinunciare al lusso e alla qualità che contraddistinguono il marchio francese.